benvenuti ad una nuova puntata di the equita podcast la parola a luigi de bellis corresponsabile research team di equita per il commento mensile sui mercati il mese di agosto è stato caratterizzato da un aumento della volatilità con segnali contrastanti dei dati che hanno lasciato gli investitori incerti su quale scenario macro prepararsi il sell off dei mercati azionari che aveva caratterizzato la prima parte del mese si è completamente invertito poiché le recenti indicazioni dagli stati uniti non hanno confermato le preoccupazioni di una recessione imminente innescata dal debole rapporto sul mercato del lavoro di luglio interessante notare che oggi il mercato obbligazionario sconti un forte rallentamento dell'economia o addirittura una recessione con un taglio dei tassi da parte della fed di oltre 220 di punti base entro fine 2025 mentre l'azionario sconta un atterraggio morbido con una crescita degli utili sullo standard in pur 500 a doppia cifra nel 2025 la nostra idea è che saremo in uno scenario intermedio per entrambi ma che l'azionario rappresenti ad oggi una miglior protezione rispetto all'obbligazionario ma con molta selettività. Agosto si è chiuso quindi in territorio positivo per i mercati azionari globali con un aumento del 3% portanto il guadagno da inizio anno al 15% sia in Europa che negli Stati Uniti gli indici hanno chiuso in rialzo in Asia invece i mercati sono rimasti più deboli a causa di dati deludenti sulla crescita economica della Cina. Per quanto riguarda l'Italia gli indici sono stati leggermente positivi lo spread è rimasto sostanzialmente stabile a 138 punti base in attesa dell'invio alla Commissione europea del programma di bilancio pubblico di medio termine entro il 20 di settembre. Questo programma è parte del patto di stabilità e si accompagna alla prossima manovra di bilancio che è stimata tra i 24 e 30 miliardi di euro tuttavia il Governo avrà il difficile compito di trovare le coperture per finanziare i nuovi interventi espansivi che intende introdurre però noi non siamo preoccupati su questo fronte. La correzione iniziale di agosto era stata innescata da diversi fattori tra cui dati macro americani più deboli del previsto, sono state preoccupazioni per i rischi geopolitici e un eccessivo posizionamento su alcuni settori come l'intelligenza artificiale e la tecnologia ma soprattutto abbiamo visto la liquidazione delle operazioni di carry trade sullo yen innescate dal forte movimento della valuta. Successivamente negli Stati Uniti l'inflazione è aumentata meno del previsto per il quarto mese consecutivo mentre alcuni dati macro di agosto hanno mostrato un leggero miglioramento rispetto a luglio. Infine il tono accomodante del Presidente Powell a Jackson Hole ha rafforzato la convinzione che la Fed effettuerà il suo primo taglio dei tassi nell'armione di settembre. Sul fronte delle elezioni americane i sondaggi attuali mostrano che la Harris avrebbe un vantaggio di qualche punto percentuale su Trump ma una data cruciale sarà il dibattito del 10 settembre tuttavia l'avere incognita è se il nuovo Presidente riuscirà ad avere un clean sweep oppure no per rendere attivabili le diverse proposte dove entrambi sembrano puntare comunque a maggiore deficit. In sintesi i mercati stanno affrontando un periodo di transizione con la tensione che si sposta dall'inflazione alla crescita economica. Negli ultimi mesi si è registrata una perdita di slancio in Europa e in Cina soprattutto sul settore manifatturiero. Negli Stati Uniti la crescita del PIL prosegue ad un ritmo solido seppur più lento rispetto agli ultimi trimestri e la domanda di lavoro ha mostrato segnali di rallentamento. Per questo motivo pensiamo che i prossimi dati macro saranno attentamente esaminati dal mercato. Il nostro scenario base rimane quello di un atterraggio morbido nonostante i segnali di rallentamento. Inoltre pensiamo che l'inizio del ciclo espansivo da parte delle banche centrali senza un significativo deterioramento del mercato del lavoro e dell'economia rappresenta alla fine un elemento positivo per i mercati soprattutto per i titoli di qualità. Considerando però il posizionamento degli investitori e i recenti indicatori macro non brillanti la nostra idea è che bisogna continuare ad essere selettivi nelle scelte di investimento. Vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata di The Equita Podcast e vi aspettiamo alla prossima! Grazie a tutti!